good morning vietnam hey non è una prova questa questo è rock and roll dovevo farlo fuori fammi capire una cosa bellissima voce ti chiama non ti dice cosa vuole ti dice soltanto che ha bisogno di te ok bravo tu lo devi solo intimorire ma adesso lo rimettiamo come si deve anzi sapete che vi dico lo mandiamo più in fretta così magari vi diamo un caricatino ok mettiamolo a 78 giri piloti stanno dicendo bella questa musica bella questa musica no niente è brutto allo stesso arrivederci ah bella questa oh dario ti odio e non ho capito bene come ti senti io sto bene grazie per avermelo chiesto facciamo un gioco vediamo se ti ricordi questi nomi caso contrario rinfreschiamo noi la memoria marika suscenza finisce dal medico per i turni di lavoro massacranti licenziata con un messaggio su whatsapp soffre di attacchi di panico e federica contabile licenziata soltanto perché ti aveva ricordato di pagare i fornitori ma io riconosco quelli come te trattate tutti come merda perché ne avete dovuta mangiare di merda per arrivare dove siete arrivati ma ti sei mai fermato a pensare che dietro ogni nome c'era una vita un percorso cosa vede dalla finestra niente davanti a me c'è solo l'orizzonte deve essere bellissimo come cosa ha detto non la sento ho detto che deve essere bellissimo isolarsi dal mondo non vedere niente non sentire niente bene grazie russell eccomi una canzone tutta per voi intitolata ragazzi non c'è scampo dei martedì mandella si yes e noi ci siamo capiti troppo